Notizia bomba proprio di queste ore che mi coglie completamente impreparato perché non avevo seguito gli eventi, evidentemente tutti lo sapevano tranne me, questa è una cosa che vi devo dire mi elettrizza parecchio perché a seguito della mia recente esperienza con Canon EOS R5, quindi una fotocamera di fascia più alta, probabilmente la migliore fotocamera che Canon ha messo fuori da diversi anni, secondo me è migliore anche di Canon EOS R3, vuoi per una questione di megapixel, vuoi per una questione di prezzo, secondo me globalmente questa camera è migliore anche di R3. Se mai dovessi valutare l'acquisto andrei su questa piuttosto che su R3 che costa veramente troppo, quindi secondo me questa è veramente la migliore fotocamera che Canon ha messo fuori in questo periodo, eppure proprio in questo momento in perfetto stile Canon non ce la fanno, non riescono a trattenersi, devono per forza buttarne fuori un'altra, una dopo l'altra. Ora sono state annunciate delle migliorie che sono veramente piccole piccole cose, sono veramente poche cose, eppure io ho guardato le migliorie che sono state introdotte, ho guardato le specs, ho guardato un paio di video di altri youtuber che hanno avuto la fortuna di tenerla già in mano, e mi sono detto, porca miseria, hanno fatto tutte le cose che avrei voluto su Canon EOS R6, ve ne dico solo un paio, 24 megapixel invece di 20, oh, e ci voleva tanto, perché 20 megapixel, è vero che sono tanti, è vero che sono sufficienti nel 90% dei casi, ma 24 sono meglio. Vi dico questo per due motivi, il primo è che a me spesso capita di stampare quello che fotografo, non per me, il mio cliente lo deve stampare, magari deve fare dei cartelloni che magari sono anche un pochettino grossi, e quindi 20 megapixel è un po' pochino, 24 mi dà quella soglia di sicurezza in più che preferisco avere, è dalla EOS 80D che sono abituato a scattare con 24 megapixel o superiore, tra 24 e 30 è la perfezione per me. Ora, se parliamo dei 46 di Canon EOS R5, sono troppi, lì sono il primo a riconoscerlo, sono troppi, però questa fotocamera ha una gamma dinamica superiore rispetto a Canon EOS R6 Mark I, quindi non è più così vero che tanti megapixel corrispondono a una pessima gamma dinamica, non è più così vero, questa fotocamera ha 14,6 stop di gamma dinamica, quindi non è vero che tanti megapixel precludono una buona gamma dinamica, ci sono altri fattori che entrano in gioco, e quindi io mi aspetto molto, mi aspetto una gamma dinamica equiparabile, quantomeno al passo con la versione 1, quindi almeno 14,3 stop di gamma dinamica, che già sono più che sufficienti, sono tantissimi. Basta pensare che Sony Alpha 7S III ha 15 stop di gamma dinamica e a 12 megapixel, quindi ha un sensore con molti meno megapixel e ha solo uno stop di gamma dinamica in più praticamente, quindi non è più lì il fattore. 24 megapixel, sono contentissimo che ci siano sulla nuova versione, questa è una cosa che mi fa strapiacere, il prezzo, il prezzo è una spec della madonna, perché il prezzo è identico al prezzo di lancio di Canon EOS R, quindi siamo sui 2499, 2500 dollari che penso si tradurranno in 2500 euro, credo, quindi dovrebbe essere una cosa del genere. Questa è una bomba, perché mi sarei aspettato 3000, mi sarei aspettato qualcosina di più, invece esce allo stesso prezzo. Questo significa due cose. La prima cosa è che Mark II è estremamente abbordabile. La seconda cosa è che Canon EOS R probabilmente calerà di prezzo. Mi sembra improbabile che mantenga lo stesso prezzo di adesso. Per cui avremo questa new entry che costerà tanto quanto l'attuale e avremo l'attuale che andrà a deprezzarsi per forza di cose. Questo è molto interessante. Ora, per una differenza di prezzo così poco significativa, io vi dico già che andrei sicurissimo su Mark II, perché ha proprio quelle migliorie che a me interessavano. Ve ne dico un altro paio. Intanto hanno apportato una miglioria sull'accensione, che secondo me era sciocco non aver introdotto fin da subito, ovvero un selettore dell'accensione a tre posizioni invece che due. Abbiamo spento, abbiamo acceso e abbiamo lock. Proprio come sulla vecchia Canon EOS 5D Mark II, ve lo ricordate? Era esattamente la stessa cosa. Bottone di accensione a tre posizioni. Questo è il bottone EOS R, quindi è in cima ed è rotondo, non è come quello della Mark II, però il fatto è che ha tre posizioni ed è comodissimo, così abbiamo eliminato il bottone lock che sta in cima e abbiamo introdotto la posizione lock sul bottone di accensione. Adoro questa cosa, ottimo lavoro. Altra cosa che hanno introdotto e che mi piace tantissimo, hanno introdotto un selettore foto-video, un selettore fisico, quindi sul lato opposto rispetto al bussante dell'accensione, hanno introdotto questo selettore sempre rotondo a due posizioni, che ci permette di passare immediatamente tra il sistema operativo della sezione foto e il sistema operativo della sezione video. Fantastico! È esattamente quello che continuo a ripetere ogni volta che vi parlo di una mirrorless di Canon. Su Canon EOS R7 questa miglioria c'è, perché hanno fatto un selettore a tre posizioni con spento, acceso video. Su Canon EOS R6 Mark II finalmente hanno fatto la stessa cosa, hanno messo un selettore in più, volendo però un selettore fisico che io posso vedere, io riesco a vedere anche a camera spenta come è impostata e questo è impagabile. Intanto posso cambiare semplicemente con un tocco, mentre prima dovevo andare dentro mode e poi premere info, una cosa molto tortuosa che non mi è mai piaciuta, non ho mai mancato di rivangarlo in tutti i miei contenuti sulle mirrorless di Canon. Finalmente hanno introdotto queste migliorie. Un'altra cosa che ho visto che è stata introdotta è la possibilità di gestire le priorità anche per quanto riguarda la parte video, proprio come su Canon EOS R5 che dà la possibilità di girare video per esempio in priorità di diaframmi o priorità di tempi. Altre migliorie sono state fatte sul fronte video, ci sono più codec video e più formati video che è possibile utilizzare. Ora per quanto mi riguarda personalmente a me può fare piacere fino a un certo punto che ci siano tutti questi codec e tutti questi formati perché tanto io vado a utilizzare il mio video in 4k, vado a utilizzare il mio formato log, uso il log 3 di Canon e sono appostissimo così, quindi il 6k raw a me interessa veramente molto poco. Non credo che lo userò per diversi anni ancora. Non so neanche se lo userò mai, lo userò se me lo chiederanno perché non è una roba che mi viene da fare così, pesa troppo. Alla stato attuale della tecnologia per il mio hardware il 6k raw così come l'8k raw di Canon EOS R5 pesa troppo, per cui non è una cosa che mi interessa. Però il fatto di avere diversi formati per il 4k, il fatto di avere delle velocità di acquisizione, degli high frame rate veramente performanti come su Canon EOS R6 Mark II è una cosa che mi piace veramente tanto perché quelle sono cose che una volta all'anno magari ti capita di usare. Quindi se vuoi fare un super slow motion magari una volta all'anno ti capita e lo fai. Io lo posso già fare con Canon EOS R7, quindi da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo. Ora il fatto di poterlo fare su una fotocamera full frame, quindi potendo veramente scegliere la lunghezza focale effettiva della lente che stiamo utilizzando, è una cosa che non vi nascondo, mi fa molta gola. Un'altra cosa che è stata migliorata è la raffica. Ve lo segnalo, a me non mi interessa assolutamente la raffica, non la uso mai, però da come è stata annunciata pare che stiamo parlando del miglior sistema di autofocus di sempre, quindi un'intelligenza artificiale con un tracking veramente di livello. Da quello che ho potuto vedere si tratta di un sistema di autofocus abbastanza rivoluzionario anche rispetto alle ultime uscite, quindi un sistema con un tracking veramente di altissimo livello in grado di tenere il nostro soggetto a fuoco nelle peggiori condizioni immaginabili e anche con delle lenti con una profondità di campo molto molto ridotta. E la raffica, udite udite, con otturatore meccanico si attesta sui 12 frame al secondo se ricordo correttamente, mentre con l'otturatore elettronico è di 40 frame al secondo. È una roba assolutamente folle, significa che diventerà matematicamente impossibile perdere l'attimo decisivo perché con 40 frame al secondo abbiamo più immagini di quelle che potremmo mai desiderare. Ovviamente questa è una fotocamera e videocamera ibrida per eccellenza perché fa benissimo tutto quanto e ha un costo a mio parere veramente contenuto per quello che offre. Ovvio non è una camera con cui si può fare qualsiasi cosa, per esempio non è sulla white list di Netflix, quindi molte cose non si possono fare, ma se si vogliono fare certe cose si va su altro tipo di strumentazione per altro tipo di produzioni. Per chi è questa fotocamera e se possedete già una R6 o se stavate pensando di acquistarla dovreste valutare la nuova? La mia risposta è forse. Nel senso che se avete già una R6 probabilmente accollarsi i costi di un nuovo modello solamente per quelle poche migliorie che sono state introdotte non vale la candela a meno che non ci sia una fortissima motivazione, a meno che il vostro cliente non vi chieda proprio una delle nuove features incorporate nella Mark II. In casi normali vi sconsiglierei di vendere la vostra R6 per passare alla nuova versione. Cambia tutto però se stavate pensando di acquistarne una. Se stavate pensando di acquistare una R6 con l'uscita della R6 Mark II allo stesso prezzo vi portate a casa tutte queste nuove features oltre che quelle vecchie. Per cui se stavate valutando l'acquisto è assolutamente consigliato pensare alla nuova versione. Vi devo confessare che nonostante io venga da una bellissima esperienza con Canon EOS R5 il fatto di mettere le mani su una R6 mi sta veramente solleticando e ora che ho visto che sta uscendo la versione 2 non ho dubbi se dovessi prenderne una sarebbe senz'altro la versione 2 perché costa uguale a quanto costava la versione 1 fino a poco fa per cui per la stessa cifra avrei più cose e molte di queste cose per me sono essenziali. 24 megapixel contro 20 per me è essenziale. Inoltre ho anche non ve lo nascondo delle alte speranze per quanto riguarda la gamma dinamica di R6 Mark II per cui come tutti quanti rimango in trepidante attesa di vederla sugli scaffali e possibilmente di trovarmene una in mano. A questo punto vi ricordo che ci saranno anche degli aggiornamenti su questo canale riguardo a tutte queste diavolerie tecnologiche per cui man mano si avvicendano dei nuovi modelli e qualcuno lo vedremo anche su questo canale per cui se questi argomenti vi stanno a cuore io vi consiglio di schiacciare il pulsante iscriviti qui sotto e attivare anche la campanella così non vi perdete gli aggiornamenti. A questo punto vi saluto e io è R5 vi diamo appuntamento al prossimo video.